guardando questo video l'occhio viene subito catturato dalla metà inferiore dello schermo è inevitabile l'animazione è spettacolare ciò che raffigurano è altrettanto una binaria x con un buco nero al centro e una piccola stellina che roteandogli attorno intrappolato dal campo gravitazionale poco a poco si dissangua costretta a cedere senza tregua la materia di cui è formata materia che precipita nello spesso disco da crescimento che avvolge il buco nero ed è lì nel cuore del disco da crescimento che possiamo ammirare ciò che più alla sciato stupefatti gli scienziati del team guidato da jesus coral santana uno strano bozzolo pulsante dalle pareti quasi verticali mai osservato prima attorno a un buco nero ma ancor più affascinante pensare che questa straordinaria e rigorosa ricostruzione è ottenuta da null'altro che dai grafici presenti nella parte alta dello schermo grafici che rappresentano l'unico segnale effettivamente osservato dagli astronomi insomma un capolavoro a quattro mani quelle della natura e quelle della mente umana che si vede qualcosa con l'altro che si vede qualcosa di più